io ragazzi come va eccoci tornati qui sul nuovissimo video oggi andremo a fare un bellissimo sg andiamo subito in partita ok eccoci in partita nella mappa turbolence di cazbane 4 3 2 1 madonna mia che bel nickname complimenti poi ci sono io che mi chiamo il pro ltm e giudico il nome degli altri è giusto non so non ho preso niente un accendino ho preso gg i'm forte comunque adesso molti di voi si staranno chiedendo ma pro perché stai portando un sg abu che c***o ne so no dai a parte i scherzi stai portando un sg perché non ho niente altro da registrare cioè non so proprio cosa registrare in questo momento e quindi ho detto facciamo qualcosa che potrebbe far ridere che potrebbe interessare la gente facciamo un sg anche se io non sono una persona molto forte quindi anzi io non sono per un c***o forte pensate che io ho avuto pure un passato da nerd sugli sg ma proprio ora non mi ricordo quasi un c***o delle mappe mi ricordo giusto queste ceste qui anche se turbolence non mi è mai piaciuta come ma proprio ci mi fa poco cagare detto molto sinceramente è come un lassativo ti fa cagare di più ok se trovo una crafting ora ci potremmo anche fare una spada in ferro a meno che ok vado a distrutto intanto prendiamo la cesta perché non la sto prendendo sono stupido abbiamo due di protto un c***o due di protto dobbiamo nuovarci e trovare dell'armatura un diamante bella ora mettiamo la barca facciamo così ci andiamo e poi ci andiamo a scontrare così ci troppa gli stecchini ok perfetto ahia chi è chi è chi è chi ha ma dove è spuntata questa guardate rega ma dai ma si può ci sta già uno con un naked client a sto server di m***o ok perlomeno par 72 mi piace come mappa quindi ci può stare andremo subito alla casa lì anche se non la renderizza non capisco quale sia il motivo però andremo a quella casa direi di andare subito la casa eh ma c'è già uno eh che c***o aia cos'ha it guarda oh è ritardato ok dai un'arma subito un'arma un'arma ecco lo sapevo dietro no dai e che c***o aia i'm so strong io faccio ukul a every every everything no ma sta mappa non mi piace manco per il c***o non mi piace tutti andrà vado alla mia chest e punta a me guarda 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 che palle guarda il figlio di c***o c'è non ho niente non ho niente lo ha meno preso vediamo spero di averlo meno preso sto figlio di c***o io siete bad strutti ba bad strutti prem prem cal che c***o di lettere sono queste preverine oh rega i preverine vado al mio chestrout immediatamente che non è qui dai non è questa era dall'altra parte il mio chestrout scappo scappo e ciao ciao è stato un piacere conoscerti da dove c***o mi prendi c***o mi prendi zio la c***o da c***o c***o porco d****o si si che bello ok c'è una 42% di possibilità di uscire l'altra mappa che nonержano 85 e 42% Di uscire per 72 Per fortuna uscito per 72 Una gioia finalmente Ok Io ignoro del tutto Le ceste che ci sono qui E vado al chester out Ok Prendo subito la cassa che c'è qui Ok Ok Ci sta un po' di armatura Una merda Due e mezzo di prot Mi sono fatto Capirai un'arma Altro mezzo di prot Vai Tre di prot Attenzione Ora posso incidere le persone Cinque di prot Ok un'arma Perfetto Quello che cercavo Perfetto Ora ce ne possiamo Ce ne possiamo anche stare qui A camperarcela Cioè no no A camperarcela A cercare le altre ceste Oh mio dio Che c***o è questa ceste Mi sono fatto il full set Di chain Cisti un botto Oddio Cosa c***o è questa ceste Va buona Sono full fair C'ho C'ho sette e mezzo di prot Ho visto uno Ho visto il nickname No Sono un team No C***o dai davvero Ma dio davvero un team Che c***o Ma cosa vuole fare Ma è stupito sto ragazzo Mi sta portando dal teammate No C***o non ci vengo L'ho visto il teammate Oddio freccia dietro Freccia dietro Ah c***o è uno Ok Guarda vedete i miei doti da pvpr Contro un hacker soprattutto Beh va f***o dai Oh è impossibile Non riesco a fare niente Ok rega Spero che il video Vi sia piaciuto Anche se ha fatto un pochettino Cagare Per lo meno Mi avete visto un pochettino Sclerare Adesso Non mi state vedendo Cerco di Esco Così mi vedete Come sto dicendo Mi avete visto almeno un pochettino Sclerare Almeno Spero che questo vi abbia fatto Un pochettino di piacere Che vi abbia strappato Una risata E niente se volete un altro L'episodio del 6G Lasciate un bel pochettino Di like Un bel pochettino Vi stenderà come parola E niente Io vi voglio bene Vi do un abbraccio Amo Nur E ciao What's it Brian? Yes